Guarda, io al primo momento stasera, quando ho sentito il telegiornale, ho sentito due fascisti uccisi, così, ho detto bene, sono contento, però poi ci ho ripensato un pochettino, perché dico, vabbè, erano degli fascisti, però cazzo, erano dei ragazzi come me, diciamo. Il nostro punto di partenza è un nuovo atteggiamento alla conoscenza, fare di ogni atto una scelta, di ogni scelta un'arma, ciò che debbo combattere in me è il buonsenso. Il governo ha ragione a non darti mai niente, sei giovane e incosciente e non meriti niente, sei solo un vagabondo. Perché molte volte le parole sono un allontanamento dalla pancia, io la rivoglio la pancia mia, la voglio sentire, capito, la voglio sentire insieme a tutte le pance che stanno qua, a me della testa, veramente, non ne posso più, non la voglio più.